La strada provinciale La strada provinciale Eccola Non so se si riesce a vedere Là in fondo la strada è stata rovinata È caduto anche un pezzo della massicciata Un pezzo della massicciata in cemento E vedete là in fondo Non so se si riesce a vedere l'acqua che sta cadendo Questa invece la quantità Di terra Sulla strada saranno circa Una ventina di metri di terra Che ci separa Ci sono dei rumori effettivamente Preoccupanti però Ci sono circa una ventina di metri di terra Che separa questa parte Della strada Quella verso Varsi Da quella che invece è verso Barbie Gli scavatori quasi non si vedono E la quantità L'altezza Della Della terra E delle piante Sarà circa di 5 o 6 metri Davvero 80 Adesso vediamo un po' Cos'altro si può fare E ci vediamo in un secondo momento